E anche oggi è con noi in frequenza Beppe Viale, responsabile tecnico dell'Atletica Roata Chiusani. Ciao Beppe, ben ritrovato. Buongiorno a tutti voi. Dunque iniziamo parlando dei campionati piemontesi indoor salto triplo che si sono svolti a Torino. Esatto, sabato allo stadio, lì sotto lo stadio, è una pista ricavata sotto le tribune dello stadio Nebbiolo. Questo sabato 13 erano previsti appunto il triplo, noi siamo andati giù sia con le cadette che con le allieve. Due titoli regionali, il primo è venuto da Giorgia Ghibaudo nelle cadette, non solamente il suo risultato è stato buono salendo sull'appozio più alto, ma anche la compagnia di squadra Adele Falcone è arrivata terza, anche lei molto brava. E queste erano le prime gare, poi subito dopo ci sono state le allieve assolute, dove Valentina Paoletti, anche lei arriva seconda in assoluto, ma davanti è arrivata una ragazza oltre i 20 anni, e lei vince il titolo nell'allieve con 11 metri e 10, per cui brava Valentina. E buoni risultati anche nei campionati regionali indoor assoluti a Bra? Sì, domenica c'erano i campionati assoluti, avrà sui 60 e 60 ostacoli, bellissimo le nostre ragazze, con la nuova arrivata nell'allieve Malina Lenuta Berinde, una rumena che corre per noi, arrivata da Torino, che vince la prova negli ostacoli con 9-16, terzo posto ancora per Valentina Paoletti, che anche lei sale sul podio, lì domani dal titolo nel triplo. Bene anche Alessandro Madaloni, che arriva terzo nei 60 piani allievi, ma ottima gara per Chiara Costa, una nuova tesserata che viene dal San Fron, che si piazza addirittura seconda, sempre nei 60, con un buon piazzamento, un po' da un quinto posto sempre per la campionata degli ostacoli, che arriva a quinta. Ben piazzata ancora Valentina Paoletti, che ovviamente era lì, non poteva non caricare, come pure Arianna Tosini e Elisabetta Longhi. Bene anche nei maschietti, anche se non sono saliti sul podio, buon esordio per Amadou Dosso, sesto nei 60 piani di Union, con 7-39 anche lui dal personale, nella gara dove ha vinto il titolo Gabriele Valentino di Dragonero, titolo ancora, sempre parliamo per i piemontesi, Andy Gatto e l'Aletica Alba, che si impone in 60 ostacoli. Bene anche Osvio Sballa, che è arrivato nono nei 60 piani. Anche gli aggiornamenti per oggi sono terminati, io ti ringrazio come sempre per essere stato con noi, alla prossima. Sicuramente, arrivederci.